30 giorni per approvare il piano sociale di zona ed evitare il commissariamento degli ambiti territoriali. L'imperativo è della Regione Puglia a 16 amministrazioni comunali e tra queste Bitonto, Corato e Modugno. Le risorse ordinarie su cui si potrà contare in fase di avvio per il 2013-2015 saranno quelle del Fondo regionale, cioè 11 milioni di euro, di quello nazionale, 15 milioni di euro, e del Fondo nazionale per la non autosufficienza, cioè 10 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le risorse provenienti dai bilanci comunali. Tra le novità inserite nei piani sociali di zona, un punto di pronto intervento che riguarda la mensa sociale, l'alloggio d'emergenza per adulti senza fissa dimora e il banco alimentare. Il Comune di Modugno, per esempio, è già corso ai ripari. L'assessore ai servizi sociali Rosa Scardigno ha incontrato i colleghi di Bitetto e Bitritto per stilare il documento e portarlo in Consiglio Comunale fra qualche settimana. Bitonto, invece assolti gli adepimenti in commissione, si appresta ad approvare il piano nel prossimo Consiglio Comunale utile.